Giuseppe Provenza si lancia all'attacco della sindaca e della sua giunta. Nel mirino dell'ex assessore, intervistato da Sud TV, le questioni più calde degli ultimi mesi, a cominciare dalla scuola fiorentino e dalle problematiche legate alla viabilità. Purtroppo la situazione è allarmante, come ho già avuto modo di dire, lo ribadisco in questa sede, perché avevo inchiodato la sindaca alle sue responsabilità. Dopo la scelta scellerata della chiusura, quindi della provocata inagibilità, trascorsi ulteriori otto mesi avevo rilevato che non era stata prodotta alcuna attività relativamente all'abbattimento e alla ricostruzione. Pertanto diventava preoccupante per me e per i cittadini che subiscono questo disagio, per i commercianti, perché dobbiamo ricordare che le fiorentino rappresentano la tradizione. Un intero quartiere e generazioni sono cresciute intorno alle scuole, quindi espropriarli di questa realtà storica è un fatto gravissimo. E soprattutto non produrre l'attività propedeutica per quanto riguarda lo sfruttamento del presunto finanziamento è ulteriormente grave. In questi otto mesi però abbiamo registrato solo il comodato che la sindaca ha detto di aver fatto in favore dei suoi amici, cosa ancora più grave. Io non credo che la legge consenta alla sindaca di fare piaceri. Detto questo avevo invitato la sindaca a smentirmi, non l'ha fatto. Registriamo oggi, siamo quasi a metà febbraio, purtroppo una situazione di immobilismo totale, con grave documento per tutta la comunità. Le somme spese disposte dall'amministrazione per i primi due anni e mezzo rasentano i 400 mila euro, anzi, dagli ultimi aggiornamenti sono stati anche superati. Detto questo, credo che qualsiasi amministratore normale, equilibrato, avrebbe scelto di utilizzare queste somme per mettere in sicurezza, se effettivamente ci fosse stato un problema di staticità delle scuole medie fiorentino, quindi dei padiglioni. Invece no, la sindaca ha operato la scelta di chiudere e di trasferire gli alunni. Ma una domanda nasce spontanea. È possibile che gli alunni trasferiti nell'istituto, nell'opera Bertoni, che è stata costruita, se non ricordo male, addirittura prima delle fiorentino, siano adesso in sicurezza? Sindaca, ti rivolgo questa domanda. Se è possibile, dai questa risposta a me e ai cittadini di Battipaio. In questione viabilità, lei ha ritenuto sbagliata l'idea di realizzare una rotatoria sulla strada stradale 18 per intenderci dopo la rampa autostradale. Ci può riassumere il suo pensiero in merito? Per quanto riguarda la viabilità, è un tema che mi sta a cuore. Avevo avviato un piano viabilità per l'anno in cui ho ricoperto il ruolo di assessore. Ed è ancora tutto fermo. Infatti alcuni ancora mi fermano. La mia evidenza è che addirittura la rotatoria dinanzi all'Inam, dove deve essere completata con semplicemente un po' di terriccio, 10 cm di terriccio e un po' di fiori, è rimasta tale da oltre un anno e mezzo. Quindi è tutto fermo, è tutto bloccato. Se non registriamo la realizzazione adesso sulla statale, qui della rotatoria, davanti all'ingresso del Lidl. Tutto si può fare, ma tutto va preventivamente studiato e verificato. Nel momento in cui non va, la viabilità è bloccata, penso che, ripeto, torniamo alla normalità di qualsiasi amministratore equilibrato, avrebbe dovuto tornare sui suoi passi e rimuovere questa presunta novità della viabilità. Perché? Mi chiedo, rivolgo altrettanto un'altra domanda alla sindaca. Mai pensato, cara sindaca, che può succedere da qui a due o tre mesi con l'avvento della stagione estiva, con questa rotatoria? Sarà un caos ancora di più. Purtroppo di caos in città ne registriamo tanti. Con il blocco dei lavori ai ponti, per quanto riguarda i lavori sul rimozione del rischio idrogeologico, il ponte di Via del Centenario, il ponte di Via Clarizia, tutte attività che da un punto di vista amministrativo andavano seguite e purtroppo invece producono solo ritardi e blocco dalla circolazione e disagi. Situazione politica invece, il suo giudizio? Il giudizio purtroppo è pessimo perché, lo dicono i fatti, c'è l'immobilismo. Se non ricordo male, sono quasi tre mesi di assenza di attività amministrativa e questo lo dice lungo, sulla capacità, sulla obiettiva possibilità di amministrare il quotidiano e di progettare il futuro. Non c'è nulla. La sindaca dovrebbe rendersi conto che purtroppo, a mio avviso, ha provato ad amministrare la città di Battipaio, ma è incapace di amministrare la città di Battipaio. Dovrebbe fare un passo indietro. Voglio però tranquillizzare i cittadini che amministrare Battipaio è complicato, è difficile, ma non è impossibile come sta facendo apparire purtroppo la sindaca sicilia-francese. Incapace dovrebbe tornare a fare il medico, farebbe cosa gradita a noi tutti i cittadini battipagliesi. Grazie. 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 Grazie.